Prosegue il viaggio della ONG bengalese Dalit nelle scuole lombarde per raccontare come vivono in Bangladesh i cosiddetti fuoricasta tra emarginazione e povertà. Ad ascoltare le storie di Linus Wopondas, presidente e fondatore della ONG e della cooperante italiana in Bangladesh Silvia Rovelli, oltre 1.400 ragazzi della scuola di formazione professionale Galdus di Milano. Ed è proprio grazie alla formazione professionale che la ONG Dalit sta cercando di ridare un futuro alle giovani generazioni in Bangladesh. La formazione, soprattutto per le giovani donne, gioca un ruolo fondamentale per il paese. Insegnare un lavoro a chi invece nella cultura di questi paesi rappresenta poco più di un oggetto è di fondamentale importanza. E così occorre raccontarlo con forza ai giovani che spesso vedono la scuola solo come un dovere, una costrizione e il futuro lo danno per scontato. Per molti in Bangladesh non è così, la scuola rappresenta una conquista. L'importante è quello che noi stiamo facendo proprio in Bangladesh, la fatica che hanno fuori casta, soprattutto i bambini fuori casta. Quindi stiamo raccontando un po' a loro in modo che anche loro devono capire della loro vita che gli studi non è tanto anche facile, soprattutto per questa fuori casta. I studenti stanno mostrando un vivo interesse per la situazione che stiamo spiegando, illustrando loro dei fuori casta, dei daliti in Bangladesh. Sono numerose anche le domande che emergono dagli studenti, soprattutto proprio sulla condizione delle ragazze, del loro accesso all'educazione. La Galdus, una scuola che ogni anno forma ragazze e da loro la possibilità di incontrare fin da subito dai banchi di scuola il mondo del lavoro, fa di più. Anche grazie ad una raccolta fondi tra i ragazzi, realizzerà il prossimo anno una scuola di formazione proprio in Bangladesh e la donerà all'ONG Dalit. Noi abbiamo voluto trasferire questa nostra preoccupazione ai nostri 1.400 allievi affinché prendessero atto che il diritto allo studio si costruisce e loro devono essere protagonisti in questa costruzione di diritto allo studio facendosi anche loro carico di dare l'opportunità ai loro compagni lontani di poter studiare e di potersi costruire un futuro.